Siamo in compagnia di Camelia Nae de Nova nel centro storico della città di Europoli per annunciare dai telespettatori di Cilento Channel un appuntamento molto importante che si terrà il 16 agosto proprio nella piazza d'armi del castello Angioino Anaglisi dalla classica al tango argentino Una serata che davvero supera tutti coloro che verranno ad assistere a questo bellissimo concerto Camelia, allora, accomodiamoci su questo caratteristico tavolino che abbiamo nel nostro centro storico e raccontiamo ai nostri telespettatori un po' chi è Camelia ovviamente Camelia non sarà da sola, adesso ci spiegherà anche come sarà strutturato questo concerto chi saranno poi i protagonisti della serata Innanzitutto sono bulgara, ho cominciato a suonare lo strumento del violino all'età di 6 anni e la mia formazione musicale è cominciata all'età di 5 con il solfeggio e con pianoforte obbligatorio ho vissuto nel mio paese in Bulgaria fino a 18 anni dove mi sono diplomata all'Accademia Nazionale e poi il mio viaggio è continuato in Berlino dove ho specializzato nella Università del Künste sotto la guida di Mariana Biotcher e ho continuato successivamente la mia specializzazione in Inghilterra, a Londra laureandomi all'Accademia Reale facendo due anni di Master sotto la guida della celebre violinista Lidia Mortkowicz che il quale amo molto e mi ha dato tantissimo il mio procorso personale e musicale per quanto riguarda il repertorio la maggioranza del repertorio sarà basato sui brani popolari e anche della musica ungherese sentiremmo compositori classici come Johannes Brahms il tedesco che ha scritto le sue celebre danze ungherese con le quali esiberemo questa sera numero due, numero cinque scritta nel 1852 se non mi inganno nell'inizio della sua carriera sarà anche Vittorio, presenta anche Vittorio Monti il compositore napoletano con la sua celebre Ciarda di Monti Pablo Sarasate celebrissimo compositore spagnolo con il famosissimo brano virtuosistico La Zingaresca e poi prosegueremo nel mondo del tango argentino con Astor Piazzola che è il più importante presentatore del nuovo tango così chiamato e sentiremo tantissimi tanghi da parte del suo anche di Ricer Galiano è un suo allunno ancora vivo allunno di Astor Piazzola in quale esiberemo anche i suoi tango bene, allora non ci resta che dare appuntamento ai nostri tre spettatori al 16 agosto alle ore 21 presso il castello Angioino Aragonese per inebriarsi di questo mix di violino e fisarmonica e non solo grazie a tutti dalla classica al tango una serata da non perdere quella del 16 agosto presso la piazza d'armi del castello Angioino Aragonese di Agropoli in compagnia anche di Francesco Cetera che è poi un musicista del Cilento Medi in Cilento insomma quindi il suo strumento è noto a tanti insomma che seguiranno questo servizio allora Francesco un concerto un po' insolito direi perché è abbinato ad uno strumento che è poi il violino esatto diciamo l'idea di Camelia che mi ha contattato e sono stato felicissimo di questo era proprio quello di proporre un repertorio magari anche conosciuto ma con una formazione insolita che potesse dare spazio a tutti e due gli strumenti che sono due strumenti solisti se vogliamo quindi c'è l'incontro-scontro fra virgolette di questi strumenti noi suoneremo suoneremo credo questo repertorio dal tango al classico dal classico al tango quindi illustreremo come Gardel si scontrava con Piazzolla uno fondamentalista e l'altro innovatore quindi new tango con il vecchio tango la stessa cosa ha fatto Richard Galliano un altro grandissimo fisarmonicista che dal Musette Style ha creato il new Musette Style quindi proporremo appunto questi contrappunti musicali li faremo ascoltare suonandoli speriamo bene cari amici vi aspettiamo il 16 agosto alle ore 21 al castello di Agropoli non mancate grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.